Sono tornati in piazza dopo lo stop imposto dalla pandemia per parlare del futuro del nostro pianeta. Sono i ragazzi dei Fridays for Future, anche a Bari per lo sciopero globale del clima. Alcune centinaia di studenti baresi stanno manifestando, come in altre città della regione e di tutto il paese, per chiedere a gran voce giustizia climatica. E ora che cominci la rivoluzione, si legge su alcuni striscioni, cambiamo il sistema, non il clima, ci avete rotto i polmoni, sono alcuni degli slogan scelti per il sit-in in piazza Libertà, davanti alla sede della prefettura. Ma non ci sono soltanto le questioni climatiche. Al centro della manifestazione si chiede anche giustizia sociale, che deve andare di pari passo con quelle ambientali, sottolineano, e tutto il malcontento legato alla ripartenza della scuola. Dopo quasi due anni di didattica a distanza a causa della pandemia, pretendiamo una scuola in presenza, dicono i ragazzi, lamentando che la vera criticità sono i mezzi di trasporto dove si creano assembramenti e per i quali nulla è stato fatto in tutto questo tempo, e chiamando in causa le istituzioni locali. Quest'estate abbiamo visto gli effetti del cambiamento climatico sulla nostra pelle, in tutta Europa e in tutto il mondo. Non possiamo evidentemente proseguire su questa strada se vogliamo dare un futuro alle nuove generazioni. Ovviamente noi ci riferiamo non solo alla politica, ma anche a chi come noi si vuole attivare e vuole cambiare la società. Noi è da novembre 2019 che non scendevamo in piazza come Fridays for Future a causa della situazione pandemica. Appunto oggi noi ci troviamo qui per chiedere a gran voce un cambiamento a partire dalle scuole e dalle università, per fare una società sostenibile, che sia realmente sostenibile non solo a parole, così come sta succedendo oggi anche con il Ministero per la Transizione Ecologica.